Perché dopo il successo di quest'estate siamo tornati più forti di prima. Il calciomercato di bombe armata, dopo che è finito quest'estate e non abbiamo fatto più video per l'inizio della stagione, non fa in tempo ad arrivare gennaio che io già sono carico, carico a darvi le notizie che mi arrivano. E oggi ho una notizia importantissima. Si tratta di Irving Lozzano, giocatore del Napoli, giocatore che ha un contratto ancora diciamo abbastanza lungo, perché comunque scade nel 2024, non è che sia lunghissimo, beh il prossimo anno dovremmo iniziare a parlare di rinnovo, ma cosa che sembra veramente lontanissima, quella del rinnovo tra Napoli e Lozzano. Ci sono gli interessi, cioè l'interesse al calciatore Ciughi Lozzano che potrebbe partire, interesse di quattro club, sono rispettivi Bayer Monaco, Manchester United, Lipsia e Everton. Ovviamente quelli di Bayer Monaco e Manchester United io faccio molta fatica a crederci. Allora, mi è arrivata la notizia degli interessi di Everton e Lipsia per Giughi Lozzano. Molte testate giornalistiche hanno tirato fuori anche i nomi di Bayer Monaco e Manchester United, ma io ragazzi faccio veramente molta fatica a credere che Manchester United specialmente, che ha preso Anthony, Arash, Forster e tutti i vari altri giocatori che ora non mi vengono, possa puntare sul Ciughi Lozzano. Fatto sta che il Ciughi Lozzano e il Napoli sembrerebbero comunque essere verso la fine del loro rapporto. Cosa sta succedendo? Sta succedendo che Lozzano non è contento di Napoli. Fondamentalmente non lo... Cioè, dopo che se n'è andato Gattuso non lo è stato mai, perché non ha avuto questa centralità nel progetto. Politano, diciamo che ha avuto più spazio di lui, ma anche meritandoselo secondo me, perché Politano ha fatto sempre meglio come... non solo sotto il punto di vista realizzativo, ma proprio come gioco parlando, come ha fatto a giocare la squadra. Politano è andato sempre molto molto meglio. Ciughi Lozzano invece faccio fatica a vederlo ancora centrale nel progetto di questo Napoli. Allora, Lozzano fu pagato molto dalla società di Aurelio De Laurentiis, ragazzi, fu pagato molto perché Gattuso lo voleva a tutti i costi e De Laurentiis si è andato a prendere a una clausola di 40 milioni, che sono veramente tanti. Adesso io sono dell'idea che l'unico obiettivo per Lozzano sia fare Plus Valenza. Plus Valenza la fai se lui ti fa una stagione quest'anno perlomeno dignitosa, arrivi a gennaio, oppure quest'estate, che puoi venderlo a una cifra. Io penso che a 40 milioni non lo rivendi mai Lozzano. Secondo me non è che se tu lo compri a 40 milioni non ha fatto un upgrade, cioè non lo rivendi a più di 40 milioni, ma non lo rivendi nemmeno a 40 milioni stessi. Secondo me lo puoi rivendere sui 30 milioni, ma anche qui non è detto che te lo comprano, perché non è il giocatore che al momento serve a tante squadre. Cioè può servire a tante squadre, ma serve a squadre che bene o male sono ad un livello medio. Io non vedo Lozzano da top club, cioè Lozzano non fa il titolare del Napoli. Io faccio fatica che Lozzano venga acquistato dal Manchester United o dal Bayern Monaco. Poi magari può succedere, ma non lo vedo titolare. Cioè se non fa il titolare al Napoli, io faccio fatica che Lozzano, nonostante lui sia un ambizioso, voglio andare in un top club, come disse l'anno scorso che io non ho manco capito. Cioè non hai il posto a titolare a Napoli. Faccio fatica a credere che tu sia la top club. Ciochi Lozzano per cui potrebbe essere a Napoli alla fine. Io dico solamente che è un momento in cui noi dobbiamo pensare assolutamente a noi e ai soldi che possiamo fare con delle possibili cessioni, ma non dobbiamo assolutamente scredire una squadra. Io penso che il Napoli in questo momento sia ricostruito. Non significa mandare via Lozzano, non significa far perdere un pezzo importante a questa squadra, perché Lozzano sì, è un pezzo importante, ma non è stato mai centrale nel progetto. Io non ho visto il Napoli meglio con Lozzano. Non vedo un Napoli che senza Lozzano è indebolito, sinceramente. Io vedo un Napoli che può diventare indebolito normalmente se vanno via sia Apolitano che Lozzano. Allora lì tu devi riandare sulla fascia destra e fare almeno un acquisto, due acquisti, non lo so. Ma allora lì tu veramente devi investire. Se no ragazzi, il Napoli non ne va fuori ridimensionato dalla gestione di Lozzano. Il Napoli adesso dovrà cercare di vendere Lozzano alla cifra migliore. Cosa può succedere in tutto questo? Solbaken? Non lo so. Non lo so perché le notizie dalle mie fonti su un acquisto del Napoli che sia al posto di Lozzano non ci sono ancora notizie che siano vere e certificate. Per cui io non vi porto notizie a caso. Io so che c'è l'interesse di questi club per il Ciugli Lozzano. Che il Ciugli Lozzano può partire perché non è evidentemente felice a Napoli. L'abbiamo visto anche negli atteggiamenti che ha avuto col Milan perché non è entrato. È un giocatore che in questo momento secondo me non vuole stare a Napoli. Magari sì ci sta pure però poi quando deve andare a farsi i calcoli suoi dice è meglio andarsene via perché non ci si trova bene. Il Napoli in questo momento l'unica notizia che mi arriva è questa gestione, possibile gestione del Ciugli Lozzano. che io sinceramente a determinate cifre venderei subito. Io a determinate cifre Lozzano noi l'abbiamo pagato 40 milioni se tu mi dai 30 milioni per Lozzano io te lo do perché sinceramente dico quando mi ricapita un'offerta di 30 milioni per Lozzano e con quei 30 milioni posso rinvestire sui giocatori più forti? Secondo me sì ragazzi. Secondo me noi con 30 milioni possiamo andare a rinvestire su un giocatore più forte del Ciugli Lozzano. e non so quale sia ma ci sono giocatori più forti in giro e ne sono certo che trovandoli cercandoli analizzandoli che faremo insieme su questo canale perciò vi dico iscrivervi secondo me ci sono giocatori più forti di Lozzano che possiamo comprare anche a meno di 30 milioni. Se pensate che Quagaschelia l'abbiamo preso a 9 milioni più 2 di bonus cioè alla fine saranno 11 milioni no? 11 milioni Quagaschelia volete che non troviamo uno più forte di Lozzano a meno di 30 milioni? Ragazzi se ti arrivano i soldi 30 milioni per Lozzano gli dici caro Ciugli che vuoi fare? Vuoi rimanere? Non è così puoi anche rimanere ma alla fine se mi arrivano 30 milioni te lo do via perché in questo momento io ritengo più importante Politano se mi rinnovi Politano sono più contento andiamo a vedere la situazione anche di Politano tanto ho il computer qua vicino allora Politano età Politano si porta 29 anni il 3 agosto ne compie 30 secondo me è un giocatore che ha 29 anni questa stagione te la fa tutta poi compierà i 30 anni e io penso che Politano perlomeno cosa merita a Napoli? Merita un prolungamento di un anno di due anni poi è giusto che lo dai via secondo me anzi io non sono manco così sicuro che Politano rinnovi perché scade nel 2023 per cui c'è la possibilità che a questo punto il Napoli voglia totalmente cambiare sulla fascia destra cioè c'è la possibilità che il Napoli sulla fascia destra decida via Lozano via Politano Politano al momento vale 20 milioni ragazzi Politano scade nel 2024 per cui Politano ha un altro anno di contratto un altro anno sicuro per cui andremo quest'estate che è il 2023 nel 2023 noi dovremmo decidere o di rinnovare Politano oppure di di venderlo anche qui su Politano io dico la stessa cosa è un giocatore fortissimo ma se ti arriva l'offerta giusta e tu lo devi vendere se ti arriva l'offerta giusta tu lo devi vendere noi quanto l'abbiamo parato? allora noi se non sbaglio ragazzi Politano noi l'abbiamo preso a 28 milioni dall'Inter con il riscatto e tutto sui 30 milioni se tu Politano lo prendi a 30 milioni e arriva anche lui all'età di 30 anni nel 2023 non te li danno 20 milioni per Politano non te li danno 25 per Politano te ne possono dare 15 ma ci devono arrivare squadre che sono veramente interessate al giocatore per cui io penso che alle giuste cifre io darei via sia Politano che Lozano le giuste cifre poi il discorso è diverso Politano a Napoli si trova bene Politano merita di continuare con il Napoli e Politano sinceramente se siamo nel 2023 e mi dice che il contratto scala nel 2024 io vi farei anche un prolungamento al 2025 in modo da arrivare al 2024 cosa si fa? nel 2024 Politano ha 30 anni Politano nel 2024 deve andare via sempre se dopo fa prestazioni eccellenti che fa le stagioni fenomenali dopo lo rinnovi però io Politano sinceramente opterei per un anno di contratto Ciughi Lozano è un discorso che io vado a fare totalmente diverso perché Lozano innanzitutto è più giovane di Politano Lozano adesso andiamo a vedere anche lui contratto scadenze Lozano si porta 27 anni Politano se ne porta 29 Lozano qui dice Transfer Market che vale 30 milioni Lozano scade nel 2024 uguale uguale identico a Politano scade nel 2024 io faccio quasi lo stesso discorso per due con la differenza che se questa stagione finisce come credo con Politano che ha giocato più minuti Politano che ha fatto più gol Politano che è andato meglio nelle statistiche e Lozano che è andato molto peggio se finisce così allora cosa succederà secondo me un anno di prolungamento a Politano in Serie A 2025 e Lozano si arriva all'offerta giusta via ci si tiene Zerbin e si prova a comprare un altro giocatore che sia futuribile e forte questa quindi le notizie del bomber Mata notizie importanti comunque sappiate che il Napoli nel mercato di gennaio si dice che agirà anche per un posto a centrocampo per vedere cosa fare anche con la situazione d'Emme questo è stato un video sul calcio mercato non ne farò tanti da qui a gennaio solo se mi arrivano notizie importanti questa è una notizia importante io vi saluto iscrivetevi al canale lasciate un commento qui sotto per scrivere cosa ne pensate di questa possibile operazione di mercato di gestione di Lozano lasciatevi al video iscrivetevi al canale attivate la campanellina non scordatevi di andare a seguire su Instagram dove pubblico contenuti calcistici sportivi tennis pubblico tutto quanto e avremo anche il calcio mercato solo sul mio canale solo con le esclusive del bomber Mata un saluto forza Napoli sempre